Una interrogazione parlamentare per chiedere al Ministero se i progetti speciali per la realizzazione degli impianti di risalita e prati di Tivo e sulla Scendarella a Campo Imperatore sul Gran Sasso, annunciati dalla Regione e dal Vice Presidente Lolli, siano effettivamente realizzabili e possibili secondo i vincoli imposti dalla Comunità Europea e dal Parco Gran Sasso-Monti della Laga. A presentarla sarà l'On. Fabrizio Di Stefano di Forza Italia, che fa notare come sul sito dell'ente Parco, nella sezione dedicata alle tavole del piano del Parco, non siano presenti i progetti speciali approvati dalla Regione. Dimenticanza o contrarietà agli impianti da parte del Parco? Su questo chiederà il parlamentare forzista di fare luce al Ministero. Mi è sembrato strano non trovare, al contrario di tanti altri progetti regionali che invece vengono riportati, non trovare questi due progetti importanti. E allora l'eventuale mancanza va chiarita, perché se è una chiara volontà del Parco, a non consentire questi impianti, diventa un conflitto istituzionale non di poco conto. Se invece è soltanto un errore materiale, va comunque rivista la VAS, va comunque riavviato il pregiudimento e quindi va più presto rimesso in campo tutto l'iter per poter finalmente dare vita a questi due impianti importanti. Siccome questo è un dubbio che non possiamo lasciare in sospeso, ne ho fatto oggetto di interrogazione parlamentare che spero sarà discussa molto presto. Per il consigliere regionale Iampieri, sul piatto c'è molto di più in ballo, oltre agli impianti, futuro delle aree interne e posti di lavoro, che per l'esponente azzurro sono stati paventati solo in ottica elettoralistica dal centro-sinistra. Sì, io sono molto preoccupato perché il Gran Sasso rappresenta un volando di sviluppo economico fondamentale per l'Abruzzo interno. Io ringrazio l'onore di Stefano che si sta interessando a questa problematica. Non si può pensare sostanzialmente il centro-sinistra da un lato, vuole promuovere investimenti, vuole lanciare la scendarella e poi la inserisce all'interno di un SIC. Questa è un'evidente contraddizione perché se sta all'interno del SIC gli impianti non si possono realizzare. Io credo che bisogna fare chiarezza, non si può fare neanche il gioco delle parti che tra parco e regione tutta interna al centro-sinistra si crea questa dicotomia. Poi si bloccano gli investimenti, si magari fa solamente propaganda per le elezioni e chi ci rimette è l'Abruzzo interno, è la popolazione che vive nelle aree interne e rurali che può vedere nel Gran Sasso come avviene nelle Alpi, come avviene in tante realtà che hanno anche meno dal punto di vista naturalistico del Gran Sasso. L'aspetto meramente museale non è sufficiente a dare una prospettiva.